Buonasera e bentrovati nella terza edizione del TG6. Parliamo in apertura del problema dell'agibilità dei plessi scolastici, un problema molto attuale dopo il sisma dello scorso 24 agosto e tenuto conto che questi sono i giorni in cui inizieranno mano a mano le attività didattiche. Ebbene, problemi al Comi e al classico delfico a Teramo. Il presidente della provincia, Renzo Di Sabatino, spiega come si sta muovendo l'ente. Intanto la dirigente scolastica del Delfico rassicura sui controlli effettuati nell'istituto. Vediamo. A Teramo proseguono senza sosta le verifiche negli istituti scolastici dopo il terremoto dello scorso 24 agosto. Problemi al Comi e al classico delfico con la situazione comunque sotto controllo e già conoscenza e monitorata dalla provincia, come spiega ai nostri microfoni il presidente Renzo Di Sabatino. Il Comi era già oggetto di un finanziamento. Abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo con i tecnici della Reluis che hanno ritenuto opportuno precauzionalmente dichiararlo non agibile. Per quanto riguarda invece il Delfico, anche questo è già oggetto di finanziamento per il quale stiamo lavorando. Invece l'inagibilità riguarda l'ultimo piano che peraltro a noi era già nota, infatti in quel piano non si faceva nulla. Di nuovo rispetto a prima c'è stata la verifica di alcune lesioni vicino alla parete frontale per la quale abbiamo disposto già da adesso di mettere provvisoriamente dei tiranti per far stare ancora più al sicuro. I cittadini non gli alunni perché ci potevano essere pericoli di stacco di pezzi ma verso l'esterno. Sono tranquillissima perché ho assistito a tutta l'ispezione capillare di tutto l'edificio, quindi fatto in maniera veramente analitica. Prima sono venuti i vigili del fuoco, poi sono venuti i tecnici della provincia e non hanno rilevato alcuna criticità o qui il sopralluogo proprio, quindi non ci sono problemi. Per maggiore sicurezza la provincia ha chiamato la protezione civile, siamo stati qui fino alle 21 e 30 di venerdì, hanno stilato una relazione, quindi l'edificio è sicuro, è solido, si sviluppa in senso orizzontale, quindi è piantato bene. Alcuni genitori si sono rivolti a lei, sono preoccupati? Devo dire, devo dire grande maturità da parte dei genitori perché è venuto un genitore, io ho fatto vedere il documento, tutto a posto, insomma non è che sono subissata. Quindi se tutto va bene il 12 primo giorno, da dove entreranno però i ragazzi e sarà traslata la persona? A parte che probabilmente termineranno i lavori entro sabato, due ingressi laterali e poi c'è anche, io ho altri tre ingressi, ne ho altri tre, capito? Su Vico del Nardo ce n'ho due e ce n'ho un altro, ma ti stanno controllando tutto bene l'altra uscita, quindi voglio dire insomma non c'è problema, capito? Tranquillamente. Poi io in genere il primo giorno di scuola le faccio entrare prima le quarte, poi gli altri le faccio entrare dopo, capito? Per abitudine, proprio per conoscere questi ragazzi, insomma, quindi state tranquilli. E sull'argomento della sicurezza nelle scuole a Teramo divampa anche la polemica di natura politica con le opposizioni che attaccano l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Brucchi. Una conclamata incapacità di programmare interventi che garantiscano la sicurezza dei bambini. È forte l'accusa che i gruppi consigliari del Partito Democratico fanno al sindaco Maurizio Brucchi. Reo, dopo due anni di mandato e dopo aver ricoperto anche in precedenza il ruolo di assessore a lavori pubblici, di non saper fornire una fotografia dello stato di salute e dell'adeguamento alle normative della sicurezza del patrimonio immobiliare scolastico comunale. I genitori fanno bene ad essere preoccupati, anche se dobbiamo dire subito che la nostra non è una zona sismogenetica, quindi qualsiasi evento sismico sarebbe di riflesso su questo territorio. Abbiamo zone sismogenetiche nell'Aquilano e ovviamente quello che abbiamo ascoltato e abbiamo subito in questi giorni sono di riflesso e aggiungeremo per fortuna. Però questo non ci limita a dover porre una massima attenzione, cioè non bastano più le rassicurazioni a voce di qualche politico. Qui è il momento che i tecnici interni, ma io dico soprattutto esterni all'amministrazione comunale, facciano quello previsto dalla legge. Nel 2003 una legge è approvvista che si faccia la verifica della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici pubblici, le scuole in modo particolare sono quelle più sensibili e quindi è il caso che si faccia. Se hanno dei costi le amministrazioni devono vedere come sopprire acquisti i costi. Cioè è il caso che nel giro di qualche settimana, che ovviamente non è possibile farlo subito, vengono fatte delle verifiche scientifiche, cioè con l'analisi del materiale, l'analisi del terreno per far sì che qualcuno, ripeto un tecnico o un sistema intestino, si prenda la propria responsabilità nel dire se le scuole stanno a posto oppure cosa bisogna fare per metterli in regola. E rispondere con carta alla mano? Assolutamente sì, non bastano più le parole di qualcuno che vuole rassicurare solamente per far credere che sia tutto a posto. Il tutto a posto non lo può dire il politico per questioni in circostanza, ma lo deve dire è un tecnico abilitato a fare questo. Mercoledì prossimo i tecnici dell'Enea ci consegneranno i risultati delle verifiche sismiche fatte nelle scuole Fermi Mazzini e decideremo cosa fare. Lo ha affermato il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio nell'ambito di una riunione con i dirigenti scolastici delle scuole provinciali volto a verificare la disponibilità di aule per ospitare gli studenti delle scuole elementari e medie. La tranquillità dei genitori è fondamentale, aggiunge Di Pangrazio, e ogni decisione relativa a questi edifici sarà presa con il loro coinvolgimento. E ora cambiamo pagina. Il 10 di settembre si terrà l'assemblea dei sindaci per l'elezione dei nuovi vertici H. Il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, auspica una scelta coerente della politica per il bene dei cittadini. Sindaco Luciani, si avvicina il momento clou per quanto riguarda il futuro dell'H. Il 10 ci sarà questa importante assemblea per l'elezione del nuovo amministratore unico. Sì, i sindaci stanno discutendo sull'opportunità di nominare un nuovo vertice per l'H. C'è da dire che l'amministratore uscente non ha presentato la sua domanda e quindi nei 21 curriculum che ci sono stati presentati non troviamo il suo. Noi abbiamo già avanzato la nostra proposta, a me piace andare nel merito della questione. Chiunque sarà il nuovo presidente, io spero che sia una persona competente, che riesca finalmente a dare una svolta all'ACA, che attualmente l'ho ribadito, l'ho detto più volte, non funziona. È un'azienda, una delle più importanti che abbiamo nel nostro territorio, ha un volume d'affari di 60 milioni di euro, si occupa di acqua potabile ma soprattutto di depurazione, è un tema molto caldo. Non ho nascosto il fatto che sia giusto in questi temi che intervenga anche il governatore della regione per dare dei buoni consigli, perché questa reputo una prassi corretta. La cosa che trovo scorretta è invece parlare politicamente di schieramenti centrodestra, centrosinistra che non interessano i cittadini, sono lontani anni luce dalle problematiche dei cittadini. Noi vogliamo un'ACA che funzioni e faremo di tutto per ottenere un'ACA che funzioni. Luciani, c'è la possibilità di arrivare a queste elezioni con un candidato unico? Ma io allo stato attuale penso che non ci sia questa possibilità e penso che non ci sia questa possibilità perché non c'è chiarezza, non c'è chiarezza da parte di tutti. Io sto auspicando una presa di posizione da parte dei sindaci che si devono occupare dei loro territori. La prima domanda alla quale vorrei rispondessero davanti ai loro cittadini è se l'ACA attualmente funziona oppure no. Bene, se la risposta dovesse essere no e dobbiamo dare una svolta, dobbiamo prendere una posizione ben precisa. Il pozzo di Ombrina Mare è stato chiuso con successo dalla ditta scozzese Zenit Energy per conto della Rockhopper Exploration con un procedimento così denominato tappa e abbandona, costato 250.000 sterline, circa 300.000 euro. A renderlo noto è la ricercatrice della California State University, Maria d'Orsogna, da sempre contraria alla petrolizzazione dell'Adriatico e di altri mari, che ha ricordato che il pozzo è stato chiuso grazie a noi, gente normale. A causa dell'attuale crisi nel settore petrolifero, spiega la ricercatrice, il prezzo è considerato estremamente favorevole. Il direttore delle operazioni della Zenit Energy, Chris Colli, ha annunciato che era il loro primo progetto di rimozione di piattaforma ed è stato tutto programmato ed eseguito in cinque mesi. Chiudere un pozzo, prosegue l'Adorsogna, non è un gioco facile, è costoso, delicato e ci vuole personale competente. E ora la cronaca, un auto articolato che trasportava bancari di legno presso fuoco sulla superstrada del Liri, all'altezza del comune di Civitella, Roveto, in provincia dell'Aquila. Le fiamme che si sono sviluppate probabilmente a causa di un cortocircuito nel vano motore hanno distrutto completamente la parte anteriore del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano, che hanno domato l'incendio nel giro di un'ora. Il rogo ha causato lievi disagi alla circolazione. Sempre nella giornata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Capistrello per spegnere un altro incendio, che questa volta ha distrutto parzialmente una Fiat Panda guidata da un uomo del posto. Il proprietario del mezzo è riuscito a mettersi in salvo prima che il fuoco avvolgesse completamente l'autovettura. Subito dopo, l'uomo ha chiamato telefonicamente i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno regolato il traffico durante le operazioni di spegnimento e di rimozione del mezzo. E ora parliamo di meteo. Sono arrivate il previsto peggioramento del tempo con le piogge e l'abbassamento delle temperature nel corso del pomeriggio. Ne abbiamo parlato con il nostro meteorologo Giovanni De Palma. Dopo i fenomeni che si sono avuti nel corso del pomeriggio, in serata e in nottata assisteremo a una temporanea attenuazione della nuvolosità lungo la fascia costiera, con delle schierite che si protrarranno anche nella prima parte della mattinata di martedì, anche se poi successivamente, a causa dell'arrivo del nucleo di aria fredda che romperà dai vicini Balcani, assisteremo a un nuovo peggioramento del tempo che si tradurrà ancora con dei rovesci e dei temporali localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e da temperature in ulteriore diminuzione. Da non sottovalutare inoltre la persistenza dei fenomeni anche nella giornata di mercoledì quando potrebbero essere addirittura intense e persistenti soprattutto lungo il settore orientale della nostra regione esposto direttamente ai forti venti dai quadranti nord orientali. e a causa delle temperature in diminuzione non si escludono delle nevicate sulle cime più alte dei nostri rilievi. Una situazione che continuerà ad essere instabile anche nella giornata di giovedì mentre successivamente assisteremo probabilmente a una graduale attenuazione dei fenomeni soprattutto da venerdì, ma ne è ancora presto per sapere che tempo farà nel corso del fine settimana. Nuovi spazi in centro e occupazione di suolo pubblico per le attività dei commercianti di Pescara con The Horse. L'annuncio è arrivato dall'assessore comunale Giacomo Cuzzi che ha illustrato anche le nuove opportunità per la marineria con il nuovo bando dell'Unione Europea. Assessore Cuzzi, buone notizie per i commercianti pescaresi del centro perché ci saranno nuovi spazi proprio per le attività pubbliche della zona centrale di Pescara. Sì, nuove possibilità di occupazione di suolo pubblico a servizio del comparto commerciale. Abbiamo dato atto a quel programma Pescara per il commercio da qui fino a dicembre. Questa è una delle prime iniziative che abbiamo assunto modificando la delibera 840 che escludeva nelle aree centrali la possibilità di prevedere Deor in via Regina Margherita e in via Regina Elena. Noi l'abbiamo modificata e questo sarà un sostegno ulteriore a tutte quelle attività. Mi riferisco come ad esempio le attività di ristorazione che animano sia via Regina Margherita che via Regina Elena. Ci sono buone notizie anche per quanto riguarda la marineria pescarese grazie ad un bando dell'Unione Europea per quanto riguarda la pesca. Sì, stiamo lavorando molto per la costruzione del flag Costa di Pescara. È un fondo europeo, un bando regionale. Noi parteciperemo con la strategia che si dovrà presentare entro il 9 settembre. Stiamo facendo un lavoro di partecipazione ascoltando tutte quelle che sono le istanze della marineria e degli operatori del settore e delle associazioni di categoria. Abbiamo costituito il protocollo di intesa. Noi saremo come Comune di Pescara il partner pubblico. Abbiamo fatto un avviso per quanto riguarda la ricerca di partner privati. È una buona opportunità perché si tratta di un milione di euro da destinare al comparto attuando una strategia importante che partirà dalla valorizzazione delle tradizioni, da nuove possibilità, ad esempio sulla filiera corte, tutta una serie di azioni che andremo a fare qualora ci venisse riconosciuto questo finanziamento così importante per la nostra città. E ora andiamo all'Aquila. Beneficenza dalle forze dell'ordine. Gli abiti sequestrati dalla Guardia di Finanza, oggetto di indagini, saranno donati alle popolazioni terremotate. Nell'ambito della cerimonia di consegna degli attestati e delle medaglie ai finanziari donatori di sangue che si svolgeranno nel comando regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, saranno donati in beneficenza circa 10.000 capi di abbigliamento, oggetto di sequestro da parte della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano. Si tratta di vestiario nuovo e ancora confezionato negli imbagli originali con marchi delle più note griff nazionali ed estere, del tutto originali, che sono oggetto di indagine per la loro dubbia provenienza. Il materiale, dopo le indagini, si è accertato che proveniva da furti. Il Tribunale di Avezzano ha incaricato il reparto operante di restituire gli articoli rinvenuti ai legittimi proprietari. Questi però hanno espressamente manifestato la volontà di non procedere al loro ritiro, consentendo dunque di donare tutto il materiale in beneficenza alle popolazioni colpite dal sisma dell'Italia centrale. Un forte legame dunque tra Guardia di Finanza, Croce Rossa Abruzzese e imprenditori privati. Da sottolineare inoltre che la Guardia di Finanza, insieme alla Croce Rossa, sono stati tra i primi soccorritori a intervenire sui loghi del disastro del terremoto, già dopo le prime ore dall'evento. Prima della cerimonia dei donatori del sangue, si procederà comunque anche alla consueta donazione di sangue sull'auto-emoteca della Croce Rossa Italiana, alla quale potranno avvicinarsi anche i cittadini aquilani comunque interessati. E' conclusa con successo sabato a Loreto a Prutino l'iniziativa di beneficenza Una Matriciana per Amatrice, raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate. Io ho già aderito all'iniziativa di Slow Food, un futuro per Amatrice, devo vendere una parte della vendita delle amatriciane. Questa sera abbiamo fatto ampliata in piazza per coinvolgere più persone, per dare un piccolo contributo, veramente piccolo, simbolico, però sempre importante. Non mi aspettavo questa partecipazione, veramente tante persone, e l'abbiamo organizzata in fretta e in furia, con una settimana, devo dire che proprio la risposta è stata grande, grande, grande dei cittadini di Loreto. Li ringrazio pubblicamente. Sì, ringrazio i cittadini che hanno partecipato numerosi all'iniziativa promossa dal Convivio Girasole, dall'associazione Barabba Sound e dal collettivo studentesco per la raccolta di fondi per aiutare i paesi terremotati del centro Italia, diciamo, perché purtroppo è un terremoto che ha interessato a quattro regioni. Iniziativa lodevole, è fatto consumando un piatto tipico di quelle zone. L'Aquila gran finale per la Maratona Jazz Nazionale, organizzata per raccogliere fondi da destinare, anche in questo caso, alle aree colpite dal sisma. Paolo Fresu con Rafael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Tullio De Piscopo e tanti altri nomi del jazz italiano sono stati sul palco ieri sera in occasione dell'evento conclusivo della rassegna Il Jazz Italiano per Amatrice. Sulla bellissima scenografia naturale della Basilica di Santa Maria di Fcolle Maggio a fare da sfondo, la manifestazione ha attirato migliaia di persone nel cuore della città già ferita dal terremoto del 2009. Ed è così che la Maratona musicale, originariamente il jazz italiano per l'Aquila, è diventata il jazz italiano per Amatrice. Da un punto all'altro dello stivale, tantissimi musicisti hanno aderito alla Maratona per poter raccogliere fondi da devolvere alle popolazioni terremotate del centro Italia. Il 15% dell'incasso di tutti gli esercenti presenti alla manifestazione è stato devoluto ai territori colpiti dal sisma. Abbiamo preso una decisione importante, cioè tra l'angoscia del momento e la difficoltà complessiva di portare avanti un progetto economico e commerciale, abbiamo deciso di invece essere presenti unicamente qui al jazz, all'Aquila, al jazz per Amatrice, con una presenza istituzionale dei parchi, sviluppando un'azione di solidarietà a favore di Amatrice per la ricostruzione del teatro. Noi siamo qui oggi a testimoniare che la nostra vicinanza, la nostra solidarietà ai nostri fratelli e sorelle di Amatrice è anche testimoniare una cosa un po' più profonda, cioè che vivere nell'Appennino è complicato, è difficile perché si sta in montagna, perché fa più freddo, perché i servizi costano di più e sono meno efficienti e perché ci stanno anche i terremoti, però pensare che per tutto questo noi ci rassegneremo ad andarcene via è sbagliato. Ora la pagina dello sport, domenica prossima sarà una gara da tutto esaurito, il posticipo delle 20.45 tra Pescara e Inter, lo stadio Adriatico Cornacchia, stamani l'apertura, l'inizio della ventina dei biglietti che sono stati praticamente polverizzati in neanche due ore venduti, 12.000 tagliandi che uniti agli 8.300 abbonati fanno sì che ci saranno almeno oltre 20.000 presenze domenica prossima nell'impianto pescarese. Dunque grande entusiasmo nella tifoseria bianca-azzura per una partita che riserva una serie di incroci per alcuni giocatori di Massimo Oddo. Vediamo. Si è aperta questa mattina alle 10 la vendita dei tagliandi per la partita di domenica sera all'Adriatico Cornacchia tra Pescara e Inter. Il clima che si respira è quello da tutto esaurito un po' per il blasone dell'avversario un po' per l'entusiasmo generato dalle prestazioni del Pescara nelle prime due giornate di campionato corroborato dalla vittoria a tavolino attribuita al Delfino dal giudice sportivo. I bianca-azzuri di Massimo Oddo proprio da questo lunedì ripartono con gli allenamenti per preparare il posticipo della terza giornata con una buona parte di potenziale ancora da esprimere. L'amichevole col San Nicolo di giovedì scorso ha lanciato segnali incoraggianti per Alberto Aquilani e Jean-Christophe Baebec il centrocampista romano avanza già la sua candidatura per un posto da titolare in mediana lui che rappresenta il fiore all'occhiello della campagna acquisti del Delfino quasi certamente partirà ancora dalla panchina l'attaccante francese che deve completare il processo di ambientamento considerando anche che in fase offensiva il Pescara si è mosso bene e che se Oddo decidesse di inserire un centravanti più di ruolo quasi certamente opterà per Ray Manai in gol contro il Sassuolo. A indossare i panni di leader e di ex sarà Ugo Campagnaro il difensore argentino per due anni ha indossato la maglia dell'Inter anche se l'esperienza milanese non ha avuto gli stessi fasti di quella napoletana anche perché si incrinarono i rapporti con la loro tecnico Walter Mazzarri poi i ben noti problemi fisici in due stagioni sono state 31 le partite in nerazzurro 23 delle quali il primo anno per il Toro di Moron che contro il Sassuolo ha toccato le 200 presenze in Serie A sarà una gara speciale per gli ex Biraghi e Manai che in estate sono arrivati dall'Inter il difensore a titolo definitivo l'attaccante in presido dopo aver debuttato lo scorso anno collezionando 4 gettoni nella massima serie Manai è dunque di proprietà dell'Inter e su Twitter ha confermato non posso esultare contro l'Inter ma darò il massimo per vincere magari segnando così come da pochi mesi anche Gianluca Caprari è di proprietà del club nerazzurro promesso sposo nell'ambito proprio di quell'operazione che ha portato in arrivo all'Adriatico Manai e Biraghi una sinergia quella tra Pescara e Inter che poteva arricchirsi in caso si fosse concretizzato l'interesse nerazzurro per Valerio Verre cosa che potrebbe comunque avvenire in futuro nel frattempo Oddo attende il rientro dei nazionali dopo Gionber ieri impiegato per quasi tutta la ripresa con la Slovacchia beffata nel finale dall'Inghilterra stasera toccherà Manai e Memushai Albania impegnata con la Macedonia per le qualificazioni al Mondiale russo domani Verre in campo con l'Under 21 contro Andorra nelle qualificazioni al prossimo europeo di categoria e parte da Pescara un progetto di beneficenza in favore delle popolazioni colpite dal terremoto l'associazione Massimo Oddo Onlus nata nel 2004 e attualmente impegnata in progetti sociali con il Pescara ha deciso di coinvolgere squadre e giocatori di serie A e di serie B al fine di dare un contributo concreto alle famiglie colpite dal sisma dello scorso 24 agosto partiranno domani le aste delle maglie indossate dai giocatori e direttamente procurate da calciatori e tra le altre squadre da Pescara, Inter, Roma, Juventus, Bologna Lazio, Fiorentina, Crotone, Chievo, Sassuolo, Torino Manchester United, Paris Saint Germain Milan, Napoli, Sampdoria, Genoa, Empoli Udinese, Cesena e Perugia le maglie saranno poi messe in vendita attraverso le aste di ebay sulla pagina ufficiale dell'associazione tutto il ricavato delle vendite servirà ad acquistare direttamente beni di prima necessità che saranno indicati da Croce Rossa e Protezione Civile a raccolta fondi ultimati i rappresentanti dell'associazione si recheranno nelle zone terremotate a consegnare quanto acquistato e ora scendiamo in Lega Pro sabato scorso nel pareggio del Teramo contro il Bassano è stato tra i migliori in campo tanti chilometri macinati dal centrocampista Bulevardi ascoltiamolo Danilo Bulevardi stanchissimo alla fine di questo Teramo Bassano probabilmente il migliore in campo dalla tribuna sei d'accordo? ma è una bella cosa sentirmi dire questo e se io ho corso tanto abbiamo fatto tutti bene una grandissima prestazione al di là della prestazione personale siamo molto contenti e sono anche io contento per come ho fatto oggi c'è un po' di rammarico perché probabilmente il Teramo che abbiamo visto per alcuni tratti della gara forse le avrebbe meritati tre punti siamo stati verso la fine sfortunati i primi 20 minuti abbiamo magari un pochettino sofferto poi però abbiamo creato anche noi abbiamo avuto delle opportunità da rete che non siamo riusciti magari a concretizzare però alla fine come avete visto abbiamo creato 5-6 palle golle che abbiamo preso due traverse purtroppo siamo stati anche sfortunati c'è da dire questo d'altronde dall'altra parte c'era il Bassano che è davvero una squadra molto complicata da affrontare bella squadra una squadra bella compatta bella aggressiva sulle seconde palle gioca bene tutto sommato però ce la siamo giocata alla pari noi in tribuna c'era anche il presidente del Pescara Daniele Sebastiani non so se lo hai visto se ti ha detto qualcosa ovviamente la tua speranza è tornare da giocatore fatto a Pescara magari un giorno io come ti ho detto l'altra volta sono molto ambizioso spero sempre di salire di categorie perché io voglio arrivare più in alto possibile quindi questo adesso la prossima tappa sarà Pordenone complicata davvero complicata ma tutte le partite sono complicate però dopo questa partita io sono più che consapevole perché abbiamo fatto un passo avanti e vedendo una squadra così cattiva aggressiva con voglia di vincere e tutto io penso che se andiamo là con questa testa possiamo andare a fare il risultato ieri è scattato il campionato di serie di le abruzzesi suddivise in due raccruppamenti ci concentriamo ora sulla gara tutta abruzzese del girone F all'Aragona di Vasto la vastese ha vinto seccamente 4 a 0 su un chieti in evidente ritardo di condizione le quattro reti segnate tutte nella ripresa dalla squadra di Colavitto la vastese festeggia il ritorno in serie di dopo sette anni e lo fa nel migliore dei modi battendo nettamente nel sentitissimo derby i cugini neroverdi per 4 a 0 dopo una gara durata di fatto 45 minuti avvio di campionato positivo per la formazione di Colavitto che pure nel primo tempo ha incontrato qualche difficoltà a superare la difesa teatina prima di dilagare nella ripresa quando il chieti ha accusato un evidente calo fisico per la squadra di Mariani è una sconfitta che poteva anche starci alla vigilia e che conferma come ci sia bisogno urgente di rinforzi all'Aragona in un clima da piena estate con caldo anche sugli spalti grazie alla presenza di quasi 2000 spettatori nonostante la concorrenza dei lidi aragonesi lo spettacolo è davvero grande in campo la squadra di casa è praticamente il completo eccezione fatta per Galizia lavoro in corso per i neroverdi con diversi esordienti per una squadra ancora da completare l'avvio è come previsto di marca locale anche se bisogna attendere il sedicesimo per vedere una conclusione velenosa dell'atteso ex Teatino Fiore che manca dall'interno dell'area di pochissimo il bersaglio grosso al venticinquesimo i tifosi di casa gridano al gol ma il colpo di testa di Cosenza su assist di Campanella termina a lato di un soffio cresce di intensità la spinta della squadra di Colavitto sostenuta dai suoi tifosi e al ventisettesimo ancora Cosenza è sempre di testa a creare un brivido in area ospite al trentunesimo punizione tesa in area di Fiore con la respinta di Mecca che poi subisce fallo la pressione locale è sempre più costante al trentatresimo c'è un'altra buona opportunità aragonese questa volta con un colpo di testa fuori misura di Di Pietro passano due minuti e Felici colpisce il palo esterno della porta difesa da Mecca la squadra nero-verde inizia a barcollare con i bianco-rossi che invece continuano a spingere al trentanovesimo ancora Fiore ci prova dalla distanza con una deviazione che per poco non beffa Mecca nel finale di prima frazione non accade più nulla con le due squadre che rientrano così negli spogliatoi sullo 0-0 la ripresa si apre all'ottavo con il vantaggio locale trozzo strattone in area teatina Prisco per cascella di Bari e rigore che lo stesso Prisco realizza per il vantaggio locale la squadra di casa non è però paga e al dodicesimo arriva così il raddoppio ad opera di Fiore che di testa mette in rete a porta vuota dopo la traversa colpita da Felici i nero-verdi crollano e al sedicesimo la squadra di casa trova il tris Felici colpisce un altro legno la palla termina poi a Cosenza che segna dall'interno dell'area il gol del 3-0 che chiude la gara di fatto con mezz'ora di anticipo non c'è infatti storia visto che al venticinquesimo è Mecca a negare a Prisco il gol del poker che arriva con Manzo alla mezz'ora grazie anche alla complicità di Mecca dall'altra parte inoperoso per gli interi 90 minuti l'estremo ragonese russo poi solo la festa bianco-rossa per un successo benaugurante per il prosieguo di un torneo che i tifosi di casa si augurano ricco di soddisfazioni Ed ora una notizia che riguarda proprio la Chiti Calcio una nota diffusa sulla pagina ufficiale della società teatina nel tardo pomeriggio il Chiti Calcio annuncia che è avvenuto ufficialmente il passaggio di proprietà da oggi 5 settembre la società è amministrata da Mauro Giacomini dunque nel pomeriggio la firma davanti al notaio e Mauro Giacomini subentra praticamente con la sua cordata a quella dell'ex patron neroverde a questo punto Giorgio Pomponi proseguiamo sempre con la serie D e nel prossimo servizio vediamo il pareggio a reti bianche del Bonolis di Teramo tra San Nicolò e Fermana Possesso palla e occasioni non concretizzate è un buon San Nicolò quello che deve vedersela contro la Fermana nel primo match di cartello della stagione ma che non riesce a trasformare in rete le opportunità create Epifani cambia rispetto alla gara di Coppa Italia vinta contro Lavastese ed inserisce Chiacchiarelli chiamando fuori Traini non ancora in condizione mandando in campo poi da subito il classe 97 del Pescara Andrea Testi in attacco Caldo e prudenza di inizio campionato spingeranno ad avere un primo tempo per lunghi tratti da sbadigli l'atmosfera si scalda prima con qualche tiro dalla distanza da una parte e dall'altra e poi San Nicolò prova l'affondo è passata da poco la mezz'ora quando Mozzoni si invola sulla sinistra e fa partire un cross che Valentini non riesce a fermare Chiacchiarelli sul secondo palo manda però alto in scivolata poco dopo è ancora San Nicolò Petronio vede il movimento di Bisegna anticipato però sul più bello dall'estremo difensore della Fermana sul finire del primo tempo è la Fermana a rendersi pericolosa con un calcio di punizione battuto da Molinari sul quale Recchiuti si allunga allontanando la minaccia la Fermana parte bene nella ripresa ma è San Nicolò ad avere l'occasione più ghiotta quando Napolani illumina dalla sinistra per Chiacchiarelli che si libra in bello stile dell'avversario ma il suo sinistro si spegne ad un soffio a lato Epifani prova a cambiare qualcosa inserendo un più rapido Moretti in avanti e richiamando testi in panchina sul campo però è stata fatica a registrare azioni degne di nota la Fermana si desta poco dopo la mezz'ora quando Molinari ancora da calcio di punizione vede Recchiuti toccare il pallone quel tanto che basta per farlo finire sulla traversa la squadra di Epifani prova a capitalizzare al trentaseiesimo Massetti va via sulla destra e mette dentro un cross tagliato sul quale Forò si getta per anticipare sul più bello Moretti i tatticismi ovviamente cadono nel finale Petrucci ha la palla buona ma spara alto sulla traversa Moretti poi va via invece a Bossa poco dopo ma di petto Traini non riesce a deviano in rete nel finale grandi proteste del San Nicolò per un atterramento in area dello stesso Traini il direttore di gara lascia proseguire senza segnare il calcio di rigore come invece richiesto dai Biancazzurri finisce così 0 a 0 un punto all'esordio stagionale per il San Nicolò che domenica prossima sarà a Chieti per il primo derby della stagione ritorno in grande stile in Serie D per il Pineto di Aldo Amazzalorso che ha battuto con un gol per tempo il blasonato Campobasso doppietta del capitano Stacchiotti inizia con il piede giusto l'avventura del Pineto che dopo 18 anni ritrova la Serie D battendo con un convincente 2 a 0 il Campobasso davanti ad un Mariani Favone gremito in ogni ordine di posto con buona rappresentanza di ticosi molisani non poteva immaginare esordio migliore mister Amazzalorso che dovendo rinunciare agli infortunati a sogna con le luorie e marfia schiera un 4-4-2 con due sole novità rispetto alla Coppa sugli esterni Emili a sinistra e il Neo arrivato proietti a destra dal primo minuto mentre la coppia d'attacco è Cacciatore Antenucci Raffaele Novelli risponde con un più offensivo 4-3-3 con Improta in luogo dell'infortunato Petrella a fare da vertice avanzato del Tridente completato da Sudan e Mulatero dirige l'incontro l'arbitro Marco Acanfora di Castellammare di Stabia gli assistenti Pintaudi di Pesaro e Donatelli di Taranto Campobasso che parte con il piede giusto con Sudan che è al primo minuto in becca Improta e la sfera che termina fuori Rosso-Blu ancora avanti al dodicesimo e sempre Sudan a provare di controbalzo senza fortuna al quarto d'ora la risposta del Pineto con Cacciatore che mette in mezzo Esposito si avventa sulla sfera in acrobazia ma Cotticelli è attento e para in tuffo brividi per il Campobasso che al diciottesimo deve cedere al maggior attivismo del Pineto altro corner dello specialista Cacciatore per Proietti che prolunga sul secondo palo dove staziona Capitan Stacchiotti che di piatto piazza il diagonale all'angolino opposto per l'uno a zero esplode il Mariani Pavone è galvanizzato dal pubblico di casa l'undici Biancazzurro guadagna campo e convinzione clamoroso al ventottesimo quando Antenucci a tu per tu con Cotticelli da posizione defilata spedisce incredibilmente fuori un gol praticamente fatto per poi disperarsi nella ripresa il Pineto legittima ancora più il vantaggio di fronte ad un Campobasso che non riesce a mettere pressione a Mazzocchetti Voltasio è controllato bene e sulle fasce rosso-blu soffrono la maggiore vivacità soprattutto sulla destra di un Proietti che si è inserito benissimo al dodicesimo un Cacciatore in grande spolvero calcia a botta sicura con Francesco D'Angelo che si immola in rovesciata salvando sulla linea è il preludio al raddoppio Pinetese che arriva al diciassettesimo Cacciatore dalle retrovie vede l'inserimento di Antenucci che prova la girata Costicelli respinge ma all'altezza del secondo palo uno stacchiotti in versione gole ad or ribadisce in rete per il definitivo 2-0 e la doppietta personale per un difensore centrale che non perde il vizio del gol e il gol lo meriterebbe anche Cristian Cacciatore per quanto fatto vedere in campo ma la sua conclusione di prima intenzione al ventottesimo è tanto bella quanto sfortunata ci si aspettava sicuramente qualcosa di più da questo Campobasso che non riesce a rendersi mai veramente pericoloso imbrigliato dalla manovra del Pineto emblema della giornata storta dei Rosso-Blu la punizione di Sudan al 42esimo che termina a lato finisce così con un netto 2-0 per i padroni di casa che vincono e convincono in questa prima giornata casalinga in attesa della trasferta di domenica in quel di Pesaro finisce qui la terza edizione del TG6 TG che torna domani alle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte e buonanotte Grazie a tutti.